La settimana che doveva essere decisiva rischia di essere l'ennesima che vede incrociarsi tattiche e pretattiche, con l'identikit del tredicesimo presidente della Repubblica destinato a restare ancora avvolto nella nebbia. Nel gioco del Fai Tu il primo passo che poi arrivo io, lo stallo blocca pedine Kingmaker. La morte improvvisa e drammatica di Davide Sassoli gioca un suo ruolo. I funerali del presidente del Parlamento europeo e la commemorazione a Strasburgo, sarà Enrico Letta a prendere la parola, hanno fatto sconvocare la plenaria e la direzione del PD fissati per domani. Il segretario del PD Enrico Letta, amico personale di Sassoli così come tanti, praticamente tutti i parlamentari PD, ha deciso di non turbare il momento dell'esequie e dei ricordi con il confronto sul Quirinale. Che può attendere? La riunione probabilmente non sarebbe stata decisiva ma certo avrebbe dato quelle regole d'ingaggio necessarie per affrontare le chiame presidenziali. Tutto rinviato, nel PD e nel centrosinistra, Movimento 5 Stelle compreso che almeno stando alle indicazioni di Giuseppe Conte ha deciso di giocare la partita con il Nazareno per riuscire a contare di più tra i grandi elettori. La linea però sarebbe decisa, i numeri dicono che tocca al centrodestra indicare il candidato presidente, e allora lo faccia, dia una rosa di nomi ma tra questi non ci può essere Berlusconi. Il quale è arrivato ieri pomeriggio a Villa Grande, la residenza romana lungo l'appia antica. Qui resterà a dirigere le operazioni fino a che non sarà stato eletto il nuovo presidente della Repubblica. L'intenzione era quella di attendere le mosse del Nazareno prima di sciogliere le riserve sulla candidatura ufficiale del Cavaliere. Il rinvio in casa PD fa slittare ogni decisione anche in Forza Italia e nel centrodestra che almeno ufficiosamente resta compatto sul nome di Berlusconi. Perché una cosa non è accettabile dalle parti del centrodestra, il veto assoluto sul nome del Cavaliere. Così Berlusconi ha sganciato la bomba lunedì pomeriggio poco prima che Draghi iniziasse la conferenza stampa, se va al Quirinale, Forza Italia lascia la maggioranza. Cioè crisi di governo, l'unico scenario che i parlamentari non possono accettare. A parte i vetti reciproci, mancano le proposte vere. Difficile che da Villa Grande arrivi in settimana qualche indicazione ufficiale, né con un videomessaggio né dopo un vertice di maggioranza che difficilmente sarà convocato. In compenso ieri sera erano a cena i capigruppo della coalizione. I presenti parlano di un grande ottimismo sui numeri. Ne servono 671 nelle prime tre votazioni e 505 in quelle a seguire. E a questo punto Berlusconi vorrebbe tentare la scalata al colle. Fin qui l'ufficialità, ormai anche un po' lisa? Nello stallo della realtà trovano agio le tattiche e le pretattiche, che portano i soliti quattro nomi, il bis di Mattarella, Mario Draghi, Silvio Berlusconi e Giuliano Amato.